Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, parliamo di viabilità in città, sabato tre manifestazioni nel pomeriggio in centro, sono previsti due cortei, il primo da Piazza della Repubblica sino ai fori imperiali, il secondo da Porta Maggiore a Porta Pia, sempre sabato pomeriggio è in programma anche una manifestazione a Piazza Cavour, le chiusure